Proseguono sia a Lido che alla Sassonia i lavori organizzati dall'assessorato all'arredo urbano per migliorare l'immagine del lungomare di Fano in vista della stagione estiva. Annunciato da tempo, finalmente partirà anche l'intervento di riqualificazione del sottopasso di Viale Cairoli che comporterà in alcune settimane il divieto di transito ai pedoni. Proprio da lunedì il cantiere verrà chiuso, dal lunedì al venerdì, per permettere di smantellare quello che è la pavimentazione e posare un massetto. Dopodiché da sabato successivo, per circa una settimana, terremo aperti per far sì che aderisca al massetto, quindi ci sarà la possibilità di passare attraverso, per poi richiudere per almeno due o tre settimane e terminare l'opera. L'opera consiste nel rifacimento di quella che è la pavimentazione, comprese quelli che sono gli scivoli, la pulizia di tutta l'aria, quindi tutte le parti ammalorate e imbrattate, la sistemazione del tetto, perché oggi è abbastanza in degrado anche quello, la sostituzione di tutto quello che è l'impianto di illuminazione, con sei nuovi punti luci a led e molto più luminosi e poi installeremo Dulcis in fundo, che è questo l'elemento che caratterizzerà questo sottopasso, come sottopasso del mare, un'opera pubblica da parte che viene realizzata per conto dell'istituto artistico, che è una forma di street art, dove verrà valorizzato il tema del mare, sia attraverso un tema pittorico, che proprio valorizzando una poesia in dialetto di un nostro artista locale e sarà una sorpresa.